Un saluto a tutti i telespettatori. Oggi facciamo questa puntata conclusiva sulle verifiche fiscali, non perché ci sarebbe poco da aggiungere, ci sarebbe tantissimo da aggiungere, ma bisogna essere sintetici. Poi dedicheremo la settimana prossima a verificare, senza i statuti del contribuente, quali sono i diritti dei contribuenti in termini di difesa all'interno della verifica fiscale. Abbiamo detto che la verifica fiscale costa della fase di accesso, della fase di verifica e di ispettiva e poi c'è la fase conclusiva. La fase conclusiva, oltre alla redazione dei verbali giornalieri che vengono effettuati ogni giorno e che vengono poi riportati nell'atto finale, viene effettuato un atto che si chiama PVC, che è processo verbale di constatazione, all'interno del quale viene racchiusa tutta la verifica fiscale, viene inserita tutta la documentazione rilevante ai fini della verifica che vengono contestate al contribuente tutte le violazioni che sono state a dire del fisco perpetrate nella gestione dell'attività. Questo PVC consta di diverse sezioni, c'è una sezione relativa all'anno d'imposta e un'altra sezione che è relativa alle contestazioni che vengono mosse. Deve contenere necessariamente, qualora fossero state prese in considerazione, le dichiarazioni dei terzi, deve necessariamente contenere l'indicazione dei soggetti e le dichiarazioni che questi terzi hanno effettuato. Sotto questo profilo c'è una pronuncia recentissima della Cassazione del 2015, che è la 11630 che vi leggo, perché ha un'incidenza importante sotto il profilo del valore confessorio delle dichiarazioni all'interno del PVC, perché i contribuenti devono sapere che il PVC non deve essere per forza sottoscritto, il contribuente può decidere se sottoscrivere o meno l'atto, però se lo sottoscrive deve essere consapevole del fatto che quello che all'interno del verbale è stato dichiarato verrà utilizzato contro di lui nella stesura dell'avviso di accertamento. Dice la Cassazione con la sentenza 11630 del 2015, nel processo tributario le dichiarazioni del terzo acquisito dalla Polizia Tributaria nel corso di un'ispezione e trasfuse nel processo verbale di constatazione hanno valore meramente indiziario concorrendo a formare il convincimento del giudice qualora confortate da altri elementi di prova. Tuttavia, ed è questo l'aspetto che io reputo assolutamente importante, tale dichiarazione del terzo possono nel concorso di particolari circostanze e quando abbiano valore confessorio, integrare non un mero indizio, ma una prova presuntiva che è da sola giustificativa all'emissione dell'accertamento. Quindi, farsi assistere da tecnici e avere piena consapevolezza di quelli che sono i poteri e di quelli che sono gli effetti delle dichiarazioni effettuate, diventa essenziale ai fini della tutela. Un'ultima cosa per concludere. Se all'interno della verifica fiscale c'è qualche elemento nella gestione di tutela delle garanzie del contribuente che non è stato preso in considerazione dalla Guardia di Finanza o dall'Agenzia delle Entrate, e questo vizio viene fatto rilevare a verbale all'interno della verifica fiscale, questo elemento può diventare determinante sotto il profilo formale nell'emissione dell'avviso d'accertamento e quindi può determinare completamente la possibilità di dichiarare nullo al PVC, che non è atto autonomamente impugnabile, ma che può essere impugnato assieme all'accertamento, e quindi determinare l'intera nullità della verifica fiscale. Siccome spesso le verifiche fiscali vengono fatti negli ultimi anni precedenti alla decadenza, voi capite che è un'attività accertativa che non si potrebbe neppure ripetere. Quindi concludendo questo ragionamento, io vi invito sempre a conoscere i poteri che il fisco ha a disposizione e soprattutto a farvi assistere in maniera tale che già fin dai primi step della verifica fiscale possiate porre in essere quei comportamenti che sono essenziali per la vostra tutela e che vi possano consentire di eliminare o di limitare al massimo quelli che sono i rischi oggettivi dei poteri penetranti che il fisco ha. Abbiamo chiuso questa settimana, vi invito a guardarci la prossima settimana in cui tratteremo i diritti dei contribuenti che nascono dallo Statuto del Contribuente all'interno delle verifiche fiscali per fare questo controbilanciamento tra i poteri del fisco e i diritti dei contribuenti. Intanto vi saluto e vi ringrazio e alla prossima puntata. Grazie a tutti